ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video sono di FATENATIVI siamo qui in questo nuovissimo episodio di Minecraft siamo nel settimo episodio doveva uscire Amnesia oggi ma ho fatto uscire Minecraft perché l'episodio di ieri non mi è piaciuto molto devo dire la verità quindi per pararmi un po' il culo ho fatto uscire questo che probabilmente sarà molto molto meglio di quello di ieri allora nello scorso episodio eravamo rimasti qui nel nether e dovevamo trovare una fortezza cosa che fino adesso non ho trovato ma il tempo che secondo me gira un poco e lo trovo qui ci sono dei magma block e mi servono, li voglio, me li prendo perché mi servono, non so cosa però mi riprendo tanto lo servono, ah che bot, che bot, che bot, non so prendere non so se prendermi questo, anzi me lo prendo lo stesso mi ne prendo quanti, quanti ce ne voglio, mi farei via 3, 4, 5 ce ne voglio, mi prendo 5 eh, no, 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 no via, 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 vada via, andate via no, no, no porca trolley, no, 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 porca puttana, porca eva, porca eva, porca tua sorella, eh, vabbè no, 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 no eh, vabbè no va a fare il culo spara, spara, spara spara, spara, eh, non è vero, scherzavo, scherzavo, scherzavo eh, ah, aiuto no eh, mo no eh, lo sapevo, 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 io lo sapevo non mi spara ancora, porca puttana no, no, eh, sono morto, ragazzi sono morto, non è vero uuuh, no booooh che cazzo vuoi tu ehi brutta puttana di merda, muori allora, già sono i gassi che rompono troppo le palle perché ti metti pure tu, eh? no, no brutta merda, brutta merda, brutta ma c'avevo il Kip Invento, dicevo io fuck, c'avevo il Kip Invento, dicevo io possiamo tutto quando, per ora, tutto qui tutto un po' a cacchio, così ecco, cioè, io, vi giuro credevo di essere morto in un modo incredibile e di aver perso tutto quello che avevo invece c'avevo il Kip Invento che mi ha salvato il culo ma è una maniera incredibile ma è una maniera incredibilissima, incredibilissima come scegli da qui? devo farmi un Billard, per forza ok, questo è il posto già più interessante che c'ha più roba ok, non puoi rompermi i coglioni, bastardo te te no, 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 no ti puoi buttare e muore oh, te, te ti ho preso, su, cap spara, spara se sono disinvincibili sono diventato porca puttana spacco tutto vai vai vieni qui brutta merda vieni, vieni tieni, tieni tieni brutta tieni va a cagare ciao Enderman ciao muori muori di te ciao anche tu oh, oddio eh, non so capito nulla aglino ciao eh, vabbè cosa sta succedendo un botè vieni qui brutta merda vieni qui dammi la enderpe dammela la enderpe dammela la enderpe dammelo dammela l'enderpe dammela sì, ma dov'è? è morto? scusami puoi darmi l'enderpe dammela da è done mi sono cominciato a ennebosire ho perso l'enderman devo farmi un pillar però la cosa brutta è che se mi faccio un pillar e poi appare un enderman oppure cosa più brutta è il ghast sono fottuto però mi muovo e vediamo che succede oi, no eh, lo sapevo lo sapevo lo sapevo che succedeva questo prima o poi doveva succedere ok eh, vabbè vieni prendi questo prendi questo no cazzo cazzo si ok ora trovata 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 come è sembra un mongoloide non fa niente io sono un mongoloide allora no devo fare un altro pillar che pari ah ci sono gli enderman brutte merda che prima merda eh allora mi spacco il sedere che cacchio vuoi tu merda eh che c'è vuoi buscare botte eh che cacchio eh vuoi buscare brutta merda eh poi mi scendo giù ti spacco il culo mi spacco il culo coglione devo scendere io scendo vai vieni 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 qua dove stai c'hai paura brutta puttana di merda vieni qua vieni venite vieni aiuto 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 no 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 porca ahhh 2 hours later io ho paura di attaccarli non attaccherò mai più ah ci sono i blades ci sono i blades venite qua blades che vi spacco il sederino dove siete è qui qui adesso vi spacco il sederino mi spacco il sederino ciao eh vabbè troppe persone ciao blades ciao blades c'è un cuore c'è un cuore c'è un cuore c'è un cuore non mi ammazzare non è ma comunque questo è un blades però vabbè tutti uguali sono mettiamoci le cuffie ciao scheletro di merda come stai troppe persone troppe persone troppe persone aiuto 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 troppe persone troppe persone ho paura ho paura troppa porca puttana eh vaffone ma perché faccio schifo con l'arco oh vedi è morto ci sono altri sì che ce ne sono c'è anche un enderman bene aio aio sta winter di merda che cacchio esistono a fare porca puttana eh boss no secondo me c'è uno spawner ecco appunto quello cacchio che sta vicino quello cacchio col cacchio che ti avvicini brutta puttana di merda oh e basta quasi ne stanno qua eh ti pareva eh giusto giustamente aio oh no fatto sta che sto muorendo però vabbè io credo che ci sia un mob spawner qui quindi io spacco il mob spawner se c'è non c'è e dove cacchio apparivano le cose di merda e vabbè no ma porca puttana eh ti parevo che appariva anche l'enderman col cacchio mi prendi brutta merda vieni qua eh dai esci fuori dove stai eh ti metti paura eh non è vero scherzavo ecco riesci da giù eh mi sono chiuso da solo eh eh oh porca puttana oh cacchio non mi prendere mai che culo vabbè vabbè eh ciao via 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 prima che ti pareva ah morite brutta merda vieni venite vieni che c'ho l'arco vieni vieni tieni ecco vorrei che lo è basso ma io c'ho la squadra diamante mi ammazzo questi due croglioni no venite non mi avvicinate non vi avvicinate mai più a me che mi spacco il sereno intanto sto trovando robe per cavalli solo robe per cavalli e anche diamanto orsoli e anche diamanto orsoli tre diamanto orsoli ho trovato buono no no ma io c'ho la squadra di diamanti io l'ammazzo subito questi due croglioni venite venite qua tieni 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 oee ciao dove state a posto e oh 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 winchia di più ce ne sono di più che dite vabbè mo due ce la posso fare credo ciao aio 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 porca vabbè almeno il mio obiettivo l'ho raggiunto ho trovato parecchia roba ho trovato tipo oro oro molto oro tre diamanti posso farmi un altro ricordo anzi facciamo una cosa vediamo se riusciamo a trovare il piccone con fortuna visto che comunque possono farmi posso farmi un altro piccone vediamo se riusciamo a trovare quello con fortuna speriamo bene uno due ho già visto fortuna fortuna due allora efficienza tre fortuna due indistruttibilità due tre non è male sembra meglio del mio questo qua indistruttibilità tre tocco di quello da uno questo indistruttibilità di fortuna ed efficienza molto molto più buono di quell'altro diciamo che questo episodio è stato molto fruttativamente fruttoso però vabbè comunque spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like scrivetevi se volete e noi ci vediamo nel prossimo video non so quale gioco probabilmente di amnesia e nulla ciao ragazzi ciao